Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti voi da Manuel, buongiorno, buongiorno, chissà quando pubblicherò sto video, comunque buongiorno, ci sta, questo è il bar del calcio, mettetevi comodi perché parliamo di un argomento un po' scomodo oggi, comodi, scomodi. Cari amici, benvenuti a tutti voi, vi rubo 10 secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, Fuggire per rinascere, chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori, ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondatori, lo store della Feltrinelli, oppure in alternativa per scoprire tutte le altre modalità di vendita vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi direrà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente ragazzi, chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa, perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti voi, in descrizione come sempre trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti il nostro canale. Allora ragazzi, dobbiamo parlare di un argomento, condivido con voi delle cose delle quali sono venuto a conoscenza solamente in questi ultimi giorni, per fare una riflessione insieme, per capire che tipo di reazione potete avere davanti a una notizia del genere. E poi chiaramente vado a dirvi anche la mia direazione. Il protagonista di questo video è senza ombra di dubbio Mattia Zaccani, che manca nei campi di calcio praticamente da un mese e mezzo. Ma c'è da andare a ripercorrere piccole situazioni accadute nel corso di questo mese e mezzo, che la Lazio ha tenuto per sé e che sono uscite solamente per vie traverse. Cominciamo dal fatto che già prima della partita del derby di Coppa Italia, vinto su rigore di Zaccani, il giocatore lamentava un fastidio al piede, al dito del piede, anzi già da due partite prima. Da due partite prima. Inizialmente il giocatore ha preso sotto gamba questo fastidio, lo ha trascurato, prendendolo come una cosa di poco conto. Poi, dopo la seconda partita, il giocatore ha cominciato ad avere qualche preoccupazione in merito a questo dolore dell'osso, che non era un dito rotto, forse lussato, forse sublussato. Ma si avvicinava il derby e Zaccani non ha detto niente a nessuno. Se non accennare allo staff medico della Lazio, che aveva questo fastidio, lo staff medico a suo tempo ha detto al giocatore andiamo a fare degli accertamenti così stiamo più tranquilli. Il giocatore, per paura che gli fosse riscontrato qualcosa di importante, cosa ha fatto? Ha detto di no, che non c'era bisogno, che stava bene e ci ha giocato sopra. Dopo la partita post derby, Zaccani non si reggeva in piedi, non camminava. A quel punto lo staff medico ha preso il giocatore, ha fatto gli accertamenti, quelli basici a formello, ha visto che c'era qualche cosa e è andato a fare ulteriori accertamenti strumentali ed ha riscontrato questo problema. Quello che non si sa è che è successa la bara onda dopo questa cosa. Perché lo staff medico, una volta che ha appurato che Zaccani andava fermato, si è incazzato col giocatore. Gli ha detto, se avessimo saputo prima del derby che tu stavi così, non ti avremmo dato l'autorizzazione a giocare. E c'è stato uno scontro abbastanza importante tra lo staff medico e Zaccani. Tant'è, a molti sarà sfuggito questo particolare, non a me, che Zaccani se n'è andato a fare degli accertamenti altrove per capire dove sta, com'è il suo stato di guarigione. Lui se n'è andato altrove, se non ricordo male a Cesena o comunque in Emilia, sono quasi sicuro in Emilia, a fare degli accertamenti perché forse i suoi rapporti con lo staff medico erano ai ferri corti. Adesso la domanda è, ha fatto bene Zaccani pur di giocare il derby, poi col senno di poi capirai, tanti diranno, vabbè abbiamo vinto il derby grazie a lui, va bene così. Stiamo pagando molto caramente questo mese e mezzo di Zaccani. Aggiungo un'altra domanda a voi, quanto ci sarebbe servito Zaccani a noi in questo mese e mezzo in cui la Lazio è stata in grande difficoltà? Ecco, vi invito a fare questa riflessione e poi magari fatemi sapere come e cosa ne pensate perché onestamente, per quanto mi riguarda e arrivo alla fase continuata di questo video e tanto per il mio parere personale, Zaccani non si è comportato proprio molto bene. Cioè magari tanti di voi potrebbero dire, ho capito, questo gioca sugli infortuni pur di indossare la nostra maglia e di giocare... no raga, era il derby. Al derby pure Mr. X avrebbe fatto di tutto per giocarlo. Siamo onesti e siamo sinceri. Il discorso riguarda la gestione dell'infortunio da parte del giocatore e io onestamente sono sincero comprendo la rabbia dello staff medico davanti a un giocatore che detta proprio in parole povere l'ha preso in giro e ci ha rimesso la Lazio e non vi credete che lo staff medico non debba rendere conto a nessuno perché quando una società vede uno dei suoi migliori giocatori assenti per un mese e mezzo chiaramente la società bussa alla porta dei dottori e dice oh, che è sta storia? Che sta succede? Non c'è niente? Escluse lesioni? Possibile questo sta fuori così? Lo staff medico dice lo staff medico dice il giocatore lamenta un dolore non appena appoggia il piede per terra sotto al piede sente dolore osseo non riesce a giocare ecco alla base di questo, di quello che è accaduto c'è un'assenza di comunicazione tra Zaccagni e lo staff medico cosa che io reputo gravissima perché non ha danneggiato solo Zaccagni in parte anche i medici ha danneggiato la Lazio questo comportamento avuto da Zaccagni ha danneggiato la Lazio noi ci focalizziamo al derby al fatto che era importante vincere il derby che si è portato a casa al derby io esco da sto provincialismo lo sapete già come la penso non mi interessa io sono incazzato con Zaccagni perché Zaccagni è uno dei giocatori più forti che la Lazio ha vorrei averlo al 100% sempre e ve lo dico oggi che avrei preferito che Zaccagni non giocasse il derby della Coppa Italia e averlo magari in questo mese e mezzo in cui siamo stati senza il suo prezioso supporto vado controcorrente? forse sì io onestamente da tifoso un pochino incazzato con Zaccagni sono ognuno è libero di pensare la propria ditemi cosa ne pensate nei commenti per quanto mi riguarda Zaccagni doveva comportarsi totalmente in maniera diversa vi saluto ciao ragazzi